Ogni volta che giudicate qualcuno, inviate energia che arriverà a quel qualcuno. Se disprezzate qualcuno, l'energia di disprezzo che gli inviate lo porterà ad essere sempre più abietto, più basso e meno forte. Lo portate quindi ad allontanarsi da se stesso. Vi sembra un aiuto? Non lo è. Al contrario, quando considerate qualcuno degno di stima e lo apprezzate, inviate a quel qualcuno una carica tale da renderlo sempre più degno di stima e sempre più carico di forza. Continua.